Ben trovati amici, ben trovati, eccoci, devo dire che questa è una giornata importante per questa emittente perché dopo 13 mesi, quasi 14 mesi di battaglia nei confronti della RAI che come voi sapete non ci ha permesso di coprire con il nostro segnale buona parte della città di Ragusa e parte della provincia di Ragusa, finalmente oggi la RAI ha acceso un nuovo ripetitore su Montelauro permettendo quindi la copertura di tutta Ragusa, la zona alta di Ragusa e questo naturalmente devo dire che è il frutto di uno sforzo incredibile, legale, politico, tutto quello che potete immaginare vi assicuro che ho perso un anno anche di giovinezza nel senso che veramente mi sono stancato in questa battaglia incredibile nei confronti della RAI che poi finalmente ha capito che non poteva permettere a TeleIblea la televisione più anziana dal punto di vista della nascita d'Italia di non essere visibile sul proprio territorio. Abbiamo fatto tutta la campagna elettorale e devo anche dire che ci siamo comportati bene, abbiamo sopperito a tante cose ma oggi con la presenza di nuovo del nostro segnale su tutti i televisori ma anche tanti altri canali, attenzione perché non è solo TeleIblea che sarà visibile ma le altre emittenti di tutta l'area siciliana ma noi vogliamo che voi vi possiate sintonizzare sul canale 178 per rivedere il nostro telegiornale. Voi sapete noi non ci occupiamo molto di cronaca se non in casi estremamente particolari facciamo soprattutto commenti e la nostra è una televisione di opinione. Una volta la chiamavamo di controinformazione, magari non è controinformazione ma è certamente un telegiornale di fatti ed opinioni. Grazie a tutti coloro che comunque ci sono stati vicini, abbiamo chiesto di fare su Facebook e anche con dei 6x3 di darci una mano perché dobbiamo fare in modo che la gente ritorni a sintonizzarsi sul canale di TeleIblea. Grazie ancora per chi è stato vicino a noi in questa grandissima battaglia. Oggi è una giornata diciamo il giorno dopo il giorno dopo la morte di Silvio Berlusconi. Noi ne abbiamo parlato ieri con una intervista con il senatore Giovanni Mauro che lo ha conosciuto personalmente e a livello regionale oggi addirittura c'è stato una specie di silenzio, è stata sospesa la Giunta e c'erano anche delle situazioni molto delicate dal punto di vista politico perché si parla di alcuni rimpasti. Questo perché alcuni assessori a livello regionale non sembra siano al top e quindi sono stati spesso criticati e a questo punto sembra che Schifani avesse deciso prima della scomparsa di Berlusconi di procedere ad un rimpasto. Non vi dico sostanzioso ma un rimpasto abbastanza cospicuo diciamo. Quindi all'Assemblea regionale o meglio all'Aggiunta regionale c'erano queste idee. Invece a quanto pare la scomparsa di Berlusconi ha bloccato tutto questo movimento e qualcuno vorrebbe addirittura che si andasse a settembre, a ottobre, in autunno, cioè congelare tutta l'Aggiunta così com'è fino a ottobre e poi vedere se è il caso di fare il rimpasto. Una situazione un po' direi anomala perché si capisce benissimo, è morto Silvio Berlusconi, un personaggio importantissimo nella storia della nostra Italia. Io sono stato sempre uno, a me è sempre piaciuta Forza Italia, non lo nego anche se ora voto da un'altra parte perché Forza Italia fino ad ora ci ha un po' deluso negli ultimi tempi, però non capisco come si possa bloccare addirittura una crisi, un rimpasto politico in una regione che ha tanta racina appesa. Perché attenzione, fossimo in un posto dove, meraviglioso, siamo una squadra bellissimi, diceva Checo Zalone, però qui mi pare invece che siamo alla frutta. E il bloccare tutto questo per la morte di Silvio, sì, è un rispetto per il personaggio, ma la politica deve continuare ad andare avanti. Un giorno, mercoledì, come vedete domani ci saranno i funerali di Stato, i funerali di Stato che sono dovuti perché alcune personalità per obbligo, diciamo per Costituzione, hanno diritto ai funerali di Stato, certamente il Presidente della Repubblica, certamente il Primo Ministro, i primi, chi è stato Primo Ministro, il Presidente della Camera, il Presidente del Senato, e il Presidente della Corte Costituzionale, questi hanno diritto ad avere i funerali di Stato. Funerali di Stato che si svolgeranno nel Duomo a Milano, quindi un evento particolarmente importante in una città che era la sua città, la città di Silvio Berlusconi. Della politica poi ne parleremo perché avremmo avuto il piacere di sentire, che vi posso dire, alcuni personaggi a livello regionale, da Miciche a Stefania Prestigiacomo, che sono stati molto vicini, non è stato il caso oggi, lo faremo nei prossimi giorni per capire anche quale sarà il futuro di Forza Italia. Noi abbiamo un servizio di un minuto appena della nostra collaboratrice, in questo caso l'agenzia Italpress, e vediamo cosa si dice per i funerali di Silvio Berlusconi.